Benvenuti su Gossip Mania TV. Scandalo GF. Paolo Masella e Letizia Petris Shock, ti voglio tutta n. Prima di proseguire, se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità, ti chiediamo gentilmente di iscriverti al nostro canale e attivare la campanella. Giorni di silenzi e incomprensioni avevano creato una frattura tra Paolo e Letizia, ma finalmente arrivò il momento del confronto. Letizia confessò di essersi sentita trascurata durante il gioco della bottiglia, il che aveva contribuito al suo allontanamento. Paolo, consapevole dei suoi errori, approfittò dell'occasione per esporre il suo punto di vista e chiedere scusa. Con dolci parole, Paolo cercò di far capire a Letizia quanto fosse importante per lui, tu sai quanto vali per me. Non voglio che tu metta in dubbio quello che penso e che provo. Rassicurò Letizia dicendole che per lui lei era la più bella e l'unica, e che non avrebbe mai guardato altre donne con gli stessi occhi. Nonostante le sincere scuse di Paolo, Letizia rimase ferma nella sua delusione, sottolineando il suo disagio e evidenziando alcune difficoltà nel loro rapporto. Paolo, amareggiato per essere definito pesante, cercò di spiegare che era disposto a migliorare, invitando Letizia a confrontarsi frequentemente per risolvere velocemente le incomprensioni. La ragazza, convinta che Paolo non avesse ancora migliorato il suo atteggiamento, espresse chiaramente il problema nel loro rapporto. La conversazione continuò con Letizia sottolineando i lati del carattere di Paolo che non apprezzava, mentre lui continuava a manifestare il suo dispiacere e le sue buone intenzioni. Nonostante tutto, decidirono di mettere da parte le incomprensioni per riportare armonia nella loro relazione. Paolo abbracciò Letizia e, tra coccole e baci, le fece una promessa, mi impegnerò sempre di più per essere me stesso e conquistarti. Letizia, felice per le sue parole, si scusò per le dure espressioni precedenti e sperò in un nuovo equilibrio tra di loro. Lascia un commento alla fine del video e seguici per gli aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi. A presto con un nuovo video. Ci vediamo al prossimo Gossip.